Continua il confronto politico, o meglio, lo scontro sulla sanità che questa volta ha visto il governatore Frattura puntare il dito contro i senatori Ulisse Di Giacomo e Roberto Ruta, assenti a Palazzo Madama proprio quando si parlava di sanità. A Roma, nell'audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato, che sta conducendo un'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio Nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità, Il presidente Frattura ha messo sul tavolo la situazione del Molise, rimarcando come gli attuali parametri imposti penalizzerebbero i cittadini molisani, mettendo seriamente a rischio il diritto alla salute nella regione. La partita sulla sanità si è riaperta e contestualmente anche la guerra interna al PD molisano, dove in realtà l'ascia di guerra non è stata mai seppellita. Le parole del presidente Frattura non sono andate giù al senatore molisano, che in una nota ha precisato come la Commissione Sanità del Senato sia solo conoscitiva e non rilevante ai fini decisionali. Il governo è e resta il nostro unico interlocutore per ottenere la deroga, poi precisato il senatore Ruta. Immediata la replica del governatore, rammaricato per l'occasione persa di dare in Commissione l'immagine di una squadra unita per il bene della regione. Al contrario, i senatori delle altre regioni hanno rafforzato, con presenza e partecipazione, le ragioni dei loro cittadini e dei loro territori. Scopriamo adesso che per Ruta conta solo il governo, si legge nella nota di Frattura. Peccato che non ci siano tracce della sua interlocuzione con l'esecutivo nazionale, nello specifico tema della sanità. La scampata sottrazione di 40 milioni di euro per il servizio sanitario regionale, più che frutto dei suoi emendamenti, è frutto di un accordo tra il governo e la conferenza delle regioni. Poi l'affondo finale, ci dispiace il modo con il quale il senatore diffonde notizie errate, anche sulla conferenza Stato-Regioni, che non ha discusso le deroghe chieste dai governatori. Per essere aggiornato basterebbe poco, ad esempio consultare il sito della conferenza, dove puntualmente sono pubblicati gli argomenti all'ordine del giorno. Grazie.